Sembra essere in leggero calo la curva dei contagi, 240 positivi registrati nelle ultime 24 ore, numeri che tuttavia si riferiscono a domenica. Sono 38 accaltani 7 nuovi positivi per un totale di 1.812, infatti sono 1.089 guariti in tutta la provincia. Al momento sono 3 ricoverati in altro presidio e restano stabili i ricoveri in terapia intensiva, ovvero 8 pazienti, e in malattie infettive, ovvero 69. Si incontrano ancora decessi, 4 nelle ultime 24 ore. Sono più di 4.000 i pazienti positivi nella città di Gela e in tutto sono 10.271 i pazienti in quarantena domiciliare in tutta la provincia.